Io in quei tempi li studiavo a Firenze, facevo l'università, lui stava a Firenze, quindi l'allenamento passava a prendermi per tornare a fare la stia e quando fu esonerato l'allenatore precedente chiese in macchina cosa ne pensassi se la sera chiedeva ai ragazzi di allenare la squadra. Io ero veramente contento perché era un amico e quindi non c'era nessun problema, anche se precisai che avrei fatto comunque un allenamento a settimana e basta visto che stavo facendo l'università e comunque da lì pensare che da quella richiesta in quella macchina, ora vederlo allenare prima l'Empoli e poi il Napoli pensare che allenare a San Paolo, San Siro e così via sembra veramente una favola italiana.